Non si parla di altro a Monteroduni, l'episodio di cui è stata vittima una coppia di anziani. Entrambi hanno 90 anni e sono stati prima minacciati, poi picchiati da una coppia di malviventi che si sono intrufolati nel loro appartamento e sono riusciti a scappare con 5.000 euro in contanti. C'è preoccupazione in paese anche perché molte persone non si sentono più al sicuro. Siete preoccupati per quello che è accaduto? Eh, preoccupato sì, perché sa, siamo vecchi, non puoi sapere di notte, ti fa paura, no? Uno che è anziano, marito e moglie, viene due di notte, due delinquenti, la paura, no? Io sono stato costretto a mettermi l'allarme a casa proprio per dormire più tranquillo ovviamente, questo è. Ecco, ha paura che possa succedere anche a qualcun altro? Come no? Ma quella è una cosa che può succedere a me come può succedere agli altri. Non è la prima volta? No, no, no. Prima i rumori nel cuore della notte, poi le minacce e infine le botte. È successo tutto troppo velocemente. I due anziani di Monteroduni non avrebbero avuto neanche il tempo di chiedere aiuto. I malviventi si sono intrufolati nell'appartamento, dal balcone al primo piano, hanno messo a soccuadro ogni stanza fino alla camera da letto in cui la coppia di novantenni stava dormendo. È quanto i due anziani hanno raccontato in paese e denunciato ai carabinieri. L'uomo sarebbe stato picchiato con un bastone alla gamba, la moglie accecata con la luce di una torcia puntata dritta negli occhi, invece alle braccia. I due rapinatori alla fine sono riusciti a farsi consegnare quasi 5.000 euro in contanti, i risparmi che i due anziani tenevano custoditi nel cassetto di un comodino. I carabinieri intervenuti non si sbilanciano sui dettagli della vicenda, ma stanno indagando a tutto campo per dare un volto e un nome ai ladri, ma intanto in paese sconforto e preoccupazione per quanto accaduto. In molti invocano l'aiuto delle istituzioni per installare le telecamere di videosorveglianza. Sì, brutto proprio. Due vecchietti che ancora vanno alla campagna, che hanno ancora le galline che vogliono fare. Proprio una cosa brutta, dai. Stamattina non si parlava altro del fatto che si è andata a rubare a queste due poveri vecchietti. Un po' ci dispiace però. Ci stanno dei periodi che i furti avvengono spesso, poi si calmano un po' le acque e poi ripigliano la solita storia. Credo che sia stato un gesto veramente terribile. Voglio dire, posso capire, tu vai a rapinare una persona che magari si può difendere, ma due anziani che non si possono neanche difendere, proprio da vigliacchi. Speriamo che a breve riusciamo anche ad avere un sistema di sorveglianza.